A partire dall'11 giugno 2018, Maddalena Corvaglia tornerà su Canale 5 con Paperissima Sprint, il formato estivo che andrà in onda tutti i giorni feriali alle 20.40 sulla rete Ammiraglia Mediaset, al posto di Striscia la notizia. A Condorlo sarà proprio l'ex velina, che affiancherà il Gabibbo per il terzo anno consecutivo. Si tratta di una coppia già collaudata che tornerà a intrattenere il pubblico nel preserale con divertenti gag e filmati esilaranti scovati in rete. Le riprese di Paperissima Sprint avranno come Locatiola Puglia, terra di Maddalena. È proprio la Corvaglia a raccontare in un'intervista concessa tv sorrisi e canzoni l'emozione legata al rientro in Italia. Come è noto, infatti, Maddalena vive principalmente negli Stati Uniti, a Log Angeles, dove ha aperto una palestra con l'amica di sempre Elisabetta Canalis. Le riprese di Paperissima Sprint le consentiranno di tornare nella sua terra d'origine. Con lei la piccola Yamie, nata dal legame finito con Steph Burns. Non mi sembra vero di poter contare sull'aiuto di mamma, mia figlia Yamie sta con lei e io le raggiungo a fine giornata. Maddalena lavorerà nuovamente fianco a fianco con il garibbo, come succede già da tre anni. Si conobbero il 27 settembre del 1999, anno in cui la Corvaglia debuttò nel ruolo di Verina. Da quel momento, tra loro non ci sarebbe mai stato alcun dissapore. Siamo amici per la pelle, amo usarlo come un sacco da box, tanto è tutto morbido e imbottito. Mi diverto però a cercare il punto dove gli faccio male davvero. Dopo tre anni l'ho trovato ma non posso dirvelo. Maddalena anticipa alcuni dei dettagli del celebre formato estivo, elencando inoltre i suoi principali timori. Le gaffe sono il mio vero incubo. Mi capita spesso di non ricordare chi è la persona che mi sta parlando e ma non mi faccio prendere dal panico, uso l'espressione carissimo o carissima al posto del nome che non ricordo. Chi se ne frega.